e un saluto da Darko e eccoci su Reinman Origins comunque allora abbiamo fatto due scenari e andiamo a vedere il terzo vediamo un po' qua cosa c'è la via del pugno vadi con la via del pugno vediamo un po' qua è difficile cosa fare continui a colpire i bullpink perchè non sono vuoto abbiamo un po' di pesa qua quindi questo però io non ci arrivo poi apri ci sei arrivato Duma vediamo cos'è un cattivo venghi qui faccia questo lavoro qua chiacci verso l'alto bene le ho presi vuoi ucciderlo tu? ah no aspetta no non so poteva questi sono quelli da colpire una volta che attivano questo bene venghi io vorrei prendere la moneta ma non so come fare ci ho fatta beh riesce a venire cos'è? dobbiamo usare questo no quante monete hai lasciato? ahahahahah vai così si vuole una mano? brava vedo c'è di quasi devi fare saltare sul muretto e poi sul petafone non ci riesco così ecco no troppo in avanti brava e ora devi saltare verso il muretto brava e ora devi saltare verso il muretto oh ci siamo no beh si possiamo fare così facciamo cadere e lo riattiviamo guarda guarda oddio allora se salti e fai la ti piace in basso e l'attacco vai ciao ahah c'è la moneta lì ah moneta o che cosi lì che non mi ricordo mai lumi si chiamano mi sembra lumi si c'è la pozione andiamo a no non andare in acqua no venghi su venghi fuori dall'acqua venghi fuori venghi verso di me venghi su che lì sono cattivi cos'è quello? oddio ferma no vai via da lì brava mi sa che deve prendere col robotico brava questo aiuta va bene venghi venghi andiamo avanti venghi ma allora aspetta insomma non avevo capito che erano e ero indeciso io ehm nooo no quello la voglio no è scomparsa che è successo eh vieni verso il basso devo prendersi no che volga no ma è oh un altro andato quello esploso tutto aspetta voglio qui mi sa che c'è qualcosa e infatti immaginavo immaginavo bene abbiamo le monete luma ah dove hai fatto? devi rimbalzare lì eh brava muro vai salda ok ci sei per me è un'impresa epica fare tutto questo oh 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 devi andare dentro ehi non mi molesti mmm lì hai saltato un cuore nooo ho preso e adesso abbiamo saltato pure quello no ho preso ho capito proprio il mio mi sa di sì ahhh questo mi sa che è meglio che tu non lo prendi mi colpisca oh vieni fuori dall'acqua eh io volevo colpire questo nooo ma no ma dai ma io avevo cliccato per uscire dall'acqua vieni fuori dall'acqua no non vado in acqua anche qua vieni fuori dall'acqua no vieni fuori dall'acqua eh non vuole andare là no vieni fuori dall'acqua no vieni fuori dall'acqua ma vi fai perchè ha una vita così ingiusta perché perché sono un coso grasso e blu dovevi cambiarlo prima o ce l'hai fatta va bene non importa mi devo ancora prenderci la mano no tu no io devo ancora prenderci la mano tu non hai nessun problema allora lì c'è da uccidere tutti quelli per sbloccare lì duma no meno che se ne vanno scusa volevo colpire quello lato ma non era morto bene abbiamo preso roba ma io sono troppo nord in questa giota sali sali 1 il totale 2 perché come all'inizio e la fisca di vela tra da poi in base a quello che ho capito in 3 più sale con robo lì e più va ok quarto capitolo risultato finito cioè quarto di questo è sbloccato lì nel personaggio nell'albero sbadigliante voglio vedere vuoi andare a vedere personaggi voglio vedere che personaggi abbiamo sblocato ma penso questo qui ma ci costa ma è brutto però io voglio essere questo pa rosso posso teoria forse penso di sì bello rosso magari salto più in alto è così attenta vediamo un po proprio stai attenta a non saltare in questo punto perché sono cambi personaggi certo no non salto abbiamo sbloccato il personaggio era quello sì perché quando ne vede boh niente allora torna la regola dei sogni e andiamo a fare il secondo il senso il quarto 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 scenario vediamo cosa ci dice qua scusa il tuo attacco scherzo ehi no non me lo fa giusto cos'è che devi fare? questo però lì sopra il salto scherzzi per fare più per saltarti più pro è un casino speriamo che non ci sia il capitolo perché io non so se riuscirò a farlo ma questo è un capitolo? in che senso un capitolo? è già uno scenario? si si ma che figo è diverso dagli altri no no ma non c'è tutto vabbè anche io devo cercare di prendervi a guardare perchè capito una baranna in punto sembrava la canzone di giurassaparte in effetti ma hai visto che c'era una monetona gigante? eh lo so ma era un casino No, vieni qui, vieni qui, salta, vieni qui dove vai, venghi sul fiore, ma non ci rivadi contro, ma è l'acqua che mi fa andare, non sono io, non farmi stare pre scema, vedi è l'acqua che non ti fa andare dove vuoi, e questo è tutto un gioco a tempo, da fare abbastanza spiriti troppo, e lì come facciamo risolta, ora si va, perfetto, pallina nera, vai via, giù, salti eh poi, no no aspetta ci sono, è mio, occhio eh, occhio eh, eh, che bravo, aspetta cosa c'è qua sotto, come si fa a scendere, uuuuh, trovate posto segreto, minchia, che cazzo, lo sape non è un posto segreto, sai, e allora la parte sopra che cos'è, è questo? Uuuuh, non lo so, non lo so, finito il livello, no ma sono dei cosini con i capelli proprio, operabili, guarda, oh oddio, e adesso che ci sono, non so cosa abbiamo fatto, ah, vedi che non era finito il livello, era tipo un coso bonus, e rimangono lì così? sì, io come torno adesso? saltando sui muri, e adesso? salta, è sempre come, tutto è un questione di salto, a me non ce la faccio, starei prende a mente cupico se dico i capelli, adesso salta, muro, 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 ma non ci riesco, riprenda, come faccio se sono qua? così, allora guarda me, vedi che qua sono appeso, un, due, tre, ah ok, devo rimanere appesa, sì, bello, quello non è indifferente, però continua a saltare, salto, 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 mi piace che c'è il salto, ma scusami se non bisogna saltare, ma non c'è chi? se tu salti verso il muro e ti salti dall'altra parte, ma non ci riesco, cos'è che non capisci del mio non ci riesco, aspetta che porto sul mio e faccio il tuo, su parli italiano, o parli spagnolo o parli un'altra lingua e non capisco, non compiendo, non riesco, permesso, guardate come sei brava, vai, sono bravissima, sono miracolosamente migliorata, l'hai visto come brava, dove va? devi saltare, no, 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 ok, oddio, no, vabbè, non ce n'è risulta, guarda, ma può nuotare con la pv, hai visto? Hai visto cosa fa il mio, guarda, guarda, hai visto? Eh, quando occorre da quello, mi sembra, e adesso? Devo riuscire, però hanno sbagliato il tasto, abbiamo liberato la zona, quello che piacerebbe di schivare, che cosa? Devo usare il latte, vabbè, io qua aspetto perché poi l'altro devi fare quello, devi prendere quel robo là, ah no, non lo prendi? Che robo là? C'erano delle rovini, non lo prendi, non lo prendi, non lo prendi, non lo prendi, ma, che cosa? Vabbè, vai dentro, allora, credo, se mi aspetta, 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 non mi riusci a farla, che fai sotto acqua? Poi se te ne è così! Bravo! Via! Roberto! Quasi sotto! Ci ha salvato la vita! Vabbè, senti, facciamo così! Ah, non ce l'hai fatto! Noi voglio andare insomma! Noi voglio andare insomma! A me forse ci fanno andare dopo! Però mi sa che lì c'è qualcosa.. Venghi di qui! Non dobbiamo andare a sinistra venghi qua! Vabbè, io vedo, ma siamo tutti teletrasporti Proprio quando ce l'avevo fatta, ma vuoi scherzare, ma è difficilissimo. Da dove? Noi non riusciano mai ad arrivare adesso. Tu devi farli più. Yeee! Altro! Un bloccato! Ah, quei ropi sono zone seguite allora. Direi di sì, mi so di sì. Era un po' nascosto, comunque adesso devi riprendere questo. E allora quelle altre che non avevamo trovato erano tanto nascoste. Eh, abbastanza. Nooo! No, quei due non li abbandono così. No, prendi. Ok. Aperde l'occhio? Sì, eh beh, è un occhio. Aspetta, allora c'è una mano. Hai visto? Prova a prenderla. Difficile. Come finisco? No, è morendo. Divieni un po' più giù perché non vedo cosa faccio. Ti prendo Yee. No, venghi giù. Perché fa vedere la mia di visuale? No, fa vedere la visuale allampiliata, però io non vedo. Perché vedi, devo fare... Ok. Io resto qua. Fatto. Cos'è che m'ho ucciso? Adesso come faccio a riprendermi? Devi saltare. A me non ho capito cosa m'ho ucciso comunque. No, vieni. Io non riesco più. Non importa. Hai idea. Allora. Cosa abbiamo qua? Una pozione. Oh, scivolo. Sotto. Lo santo cielo. Ti ho salvato la vita. Due volte. Oggi. Non l'ho riuscita. Stop, non lo viene. Non ci sono. 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 Non ce che mi riusciranno. siiii siiii stavolta ne abbiamo presi tanti si per l'altro nelle tue nascoste ma io ho preso il zio no perchè te l'hai già scatti subito per uno non avevamo sblocchato vai 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 che forse sblocchiamo noo non ci arriviamo al secondo noo noo per 23 vabbè allora 8 9 10 11 bene bene 4 su 5 molto meglio rispetto a quello dell'altra porta esatto caverna del reti quindi direi che per oggi abbiamo fatto abbastanza abbiamo fatto due altri due livelli due capitoli due livelli nel prossimo video vedremo la caverna del ritmo quindi non penso che sia una buona cosa il ritmo tra poco arriviamo anche alla tizia la che sta facendo qualcosa con i tentacoli è vero lo scopriamo nel prossimo episodio nel prossimo episodio vediamo la caverna e cosa fa la tizia quindi se il video vi è piaciuto potete iscrivervi lasciarci un bel like commento qua sotto potete trovarci anche sulla pagina facebook instagram e google più che trovate i link in descrizione e che dire da dark club è tutto ad un prossimo video vedi 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 funziona che cosa cioè devo farlo giusto vedi ho sbagliato vedi eh vedi